ciao a tutti siamo a Semmalò mancano due giorni alla partenza della rue du rom come vedete qua sui pontoni c'è tanta gente si conta che passeranno qua due milioni di persone qui siamo sulla nella prima parte della del villaggio qui ci sono i grandi trimarani il team ma la prima barca che potete vedere qui alla mia sinistra è un mito di barca è la barca che si chiamava groupier premier la barca che fu di florence harteau barca che vinse la rue du rom nel 1980 quest'anno è stata ripresa da philippe houppon famosissimo navigatore francese e con questa barca farà questa regata questa regata che lui vinse nel 1986 credo con con flori michon e partecipato questa barca e in seguito a questa partecipazione gireranno anche un film che parlerà della vita di florence harteau che è stata una grande navigatrice francese nella zona degli ultimi sono la categoria regina di questa regata sono dei grossi trimarani sono circa 30 metri lunghezza 24 metri di larghezza 40 metri di albero incredibile come possono fare a portarli in solitario una sola persona la prima barca in questo caso è us it again è una barca molto famosa ed è una barca la barca di è stata la barca di ellen mccartor castorama ci fece il giro del mondo contro vento in solitario è stata una barca che anche lei una grossa storia un po più piccola dell'altre degli altri ultime solo 25 metri ma è una barca molto importante siamo su bank populair bank populair è una maxi ultima portato dal famoso armelle cleache un ragazzo che ha vinto tutto ha vinto il van de globo ha vinto un sacco di regate è praticamente una delle barche favorite nella cattoria il team dietro di lui c'è edmond e rothschild che è anche questa è una barca tra le favorite charles codrellier grande esperienza è una barca un po meno nuova una barca del 2017 però sicuramente più collaudata sono le prime barche che hanno iniziato a montare i foil dei piani portanti sui timoni sui scafetti laterali sono barche volanti barche che hanno delle prestazioni pazzesche comunque guardate le dimensioni della barca immaginatevi sempre che le porta uno mino tutto da solo questi sono i timoni sollevabili sulla parte inferiore del timone c'è uno dei piani portanti a seconda di quando vengono immersi e inclinati danno più o meno portanza alla barca gitanà chasse codrellier altro super favorito della regata appunto come dicevamo prima gitanà è una barca molto affidabile sono parecchi anni che in acqua hanno già fatto molte modifiche molte molti miglioramenti sono barche che hanno bisogno di una grossa un grosso periodo di messa a punto perché sono complicatissime e questo è i dex sport è la barca di francis juaillon la barca vincitrice di questa regata nel 2018 barca storica una barca che è stata gruppa ma è stata banca popolare è stata poi ripresa da francis juaillon appunto che l'ha ottimizzata per queste regate in solitario e attualmente appunto è il detentore del titolo e questo è mio è la barca di arturle vaia una barca storica era il vecchio geronimo di olivier de carsasona barca del 2006 che poi nei vari anni ha subito grandi modifiche cambiati piani dei timoni foil alber compagnia bella e adesso è di nuovo sui campi di regata forse la barca più vecchia della flotta ma comunque una barca storica la sartig di francois gabar è una delle ultime barche messe in mare è stato un po al centro di una polemica gli altri skipper gli skipper delle altre barche non volevano farlo partecipare perché dicono che ha un pozzetto troppo riparato c'è una norma che dice che le manovre devono essere fatte in una posizione dove si può vedere fuori dalla barca e come potete vedere questa barca ha tutto tutte le manovre i vericelli sono tutti sotto coperta lo skipper può vedere fuori solamente dalle due piccole cabine che sembrano quelle di un aereo da caccia diciamo che appunto questo è stato un po al centro della polemica in realtà lui per vedere fuori ha semplicemente degli schermi dei monitor comunque anche le altre barche sono provato a salire ma da dentro non è che si veda anche fuori comunque questa polemica è stato un po forse la partecipazione della barca fino all'ultimo momento ora l'hanno fatta partire speriamo bene francois gabar è fortissimo ragazzo giovane ma veramente forte la barca penso che sia una delle favorite potete vedere che qua l'aerodinamica della barca è stata portata all'estremo fuori non c'è assolutamente niente non c'è un vericello non c'è un bozzello non si vede niente tutto sotto coperta e questo un po per essere ridossati riparati nelle manovre in condizioni difficili è un po proprio per l'aerodinamica su un barche comunque che fanno 40 nodi per cui la presa al vento è molto importante più alta velocità è più importante ecco qui siamo nella zona dei class 40 la class 40 è la classe più numerosa in questa regata ci sono 55 barche iscritte sicuramente la classe più agguerrita ci sarà un più combattimento ci sono non c'è un solo favorito ci sono almeno 10 12 barche che possono pretendere al podio di questa regata è la cosa importante che ci sono tre barche italiane tra la barca di alberto bona la barca di ambraggio beccaria la barca di fornaro e sono tutte barche nuovissime barche che possono sicuramente giocarsela la pari coi francesi queste barche vedete sono molto belle sono barche di 40 piedi appunto 12 metri larghe 4 metri che pesano 4.500 kg hanno doppi timoni sono praticamente come dei dei piccoli i moca dei piccoli 60 piedi in miniatura sono un pochino hanno delle restrizioni per evitare i costi troppo alti non hanno le chiglie basculanti non possono essere costruite in carbonio però sono sicuramente super tecnologiche questa qui la prua di alberto questa è la barca di alberto bona una barca di ultimissima generazione progettata da san manuar e caratterizzata da questi impavesate laterali qua verso popa servono per evitare che entri troppa acqua in pozzetto e servono anche per la stabilità della barca quando durante la prova di raddrizzamento per la stazza è dotata anche lei di due timoni timoni mobili rilevabili in modo che con poco vento si può tenere in acqua solamente il timone sottovento e evitare l'attrito ecco vi chiederete cosa sono tutti quei cordini microscopici lì nel cockpit della barca in effetti su queste barche non si usano più gli stopper tradizionali a camma ma ci sono questi stopper che si chiamano constrictor che vengono azionati appunto da questi cordini tirando il cordino una calza chiude la drizza e la frena le altre barche e questo batti armor altri non è che il moxi è un trimarano di dick newick una barca storica partecipa a questa regata nella categoria room multi ed è il vincitore moxi con phil weld il vincitore della ostar del 1980 un americano che a 60 anni con la randa volgibile nell'albero vinse la ostar in solitario transat inglese da new plymouth a newport road island e ora si ripresenta completamente rimessa nuovo per una nuova avventura sulla rotta del rum il 130 croascia è la barca di ivica costelic il croato grande sciatore vincitore di quattro coppe del mondo di sci la boulanger bio il numero 170 è la barca di amélie grassi una delle poche ragazze che parteciperanno a questa ragata progettista david raison un progettista che viene dai mini transat potete vedere la prua ecco questa è la prua che caratterizza tutti i nuovi class caran potete vedere queste prue fatte a scow sono piatte mediamente barche di questo genere sono sempre due nodi più veloci delle barche tradizionali qualcuno joan richom uno dei favoriti dice che la sua è quattro nodi più veloci delle barche tradizionali e staremo a vedere la cappella è la barca di charlie capella una barca storica partecipato penso a dieci edizioni di questa regata della rue du rome una barca che ha più di 30 anni è stata sempre tenuta in grande forma modificata ammodernata ed è un pezzo una barca d'epoca praticamente a pre che la barca di joan richom vincitore dell'ultima edizione uno dei grandi favoriti barca nuovissima progetto di mark lombardi sarà veramente un osso duro da battere anche qui potete vedere questa prua pazzesca piatta larghissima a scao tipica di queste ultime generazioni di class caran influenza è la barca di andrea fornaro una barca di van petegen anche questa barca nuovissima andrea è molto bravo e forte anche lui potrà batterse la bene con i nostri amici francesi e qui siamo su alla grande pirelli la barca di boggi di ambrogio beccaria una grande scommessa una barca progettata in italia costruita in italia made in italy al 100 per cento progettata praticamente a quattro mani dallo stesso boggi e luca guelfi due ingegneri molto preparati e comunque sarà anche questa una barca che potrà dare speriamo possa dare del filo da torcere ai nostri amici francesi interazione un'altra barca storica un 50 piedi ed è la barca si chiamava bra neck della barca che è arrivata a seconda quando io ho vinto la ostar con cotonella per cui una barca qui tengo particolarmente perché è stata il mio avversario per tutta la regata e alla fine sono riuscito a batterlo categoria multi 50 questi hanno preso il posto dei vecchi ormai 60 piedi che erano diventati troppo costosi si rompevano è una classe che ha preso abbastanza piedi sono otto barca la partenza tutte molto simili e tutte molto competitive charal jeremie bayou questa è una delle ultime barche messe in acqua per questa regata una 60 piedi in moca è disegnata da san manuar anche lui ha le sue prime barche che disegna la categoria dei 60 piedi è una barca veramente incredibile una barca molto più stretta delle altre potete notare anche a poppa i timoni i timoni inclinati sono montati molto più centrali sulla barca rispetto alle barche precedenti e anche qua potete vedere l'innumerevole quantità di di cordini manovre ci mette qui la chiamano i francesi di usina gas e qui siamo su prismian gruppa la barca di giancarlo pedote ricorre la categoria dei 60 piedi le categorie più popolose di questa regata sono ben 37 barche scritte in questa categoria sarà una lotta durissima e fantastica ed è bellissimo finalmente avere un italiano anche in questa classe che può partecipare diciamo ad armi pari con con i francesi direi che giancarlo ha una buona arma in mano è collaudata l'è già sperimentata per cui gli auguriamo tutte le cose migliori bene a questo punto non ci resta che aspettare che le barche comincino a uscire dalle chiuse probabilmente domani mattina e aspettare domenica per vedere con impazienza la partenza di questa regata i primi giorni saranno piuttosto duri difficili c'era brutto tempo ma poi andranno verso il sole per cui riusciranno poi a correre sull'aliseo